L'ufficio di presidenza in questi giorni di salone naturalmente è stato presente, tanti argomenti, dallo spazio, allo sport, all'identità piemontese, insomma un salone a 360 gradi che ha voluto anche incontrare le persone affollatissimi gli eventi. Allora un bilancio, consigliere Bertone? Beh, bilancio positivo, una grande emozione essere di nuovo qui e riprenderci un po' di normalità perché quello che una volta sembrava così normale, ordinario, vedere così tante persone all'ingotto, oggi per noi è speciale. Un programma straordinario, quello dello stand del Consiglio regionale, appunto con varie tematiche toccate e con incontri veramente interessanti. Anche tornare in presenza, consigliere, quanto è importante. Sì, tornare in presenza, potersi vedere negli occhi, provare a stringersi anche la mano, parlare con le persone, persone che magari non conosciamo è veramente piacevole.